Bene, benvenuto in questo video dove ti mostrerò come andare ad utilizzare l'area affiliati Million Travel. Innanzitutto vai a effettuare l'accesso, i dati di login ti verranno inviati automaticamente dal sistema tramite email, quindi inserirai la tua email, la tua password e cliccherai sul pulsante di login. Apparirà quest'area affiliato dove troverai delle informazioni da poter leggere e ovviamente qui poi ci sarà il video che io in questo momento ti sto mostrando. Innanzitutto vai a impostare quello che è il tuo profilo di affiliato, quindi eventualmente vai a modificare i dati di login inserendo una nuova password, se magari quella che ti è stata inviata dal sistema non è facile da ricordare, quindi vai a crearne una personalizzata tua. Poi vai a impostare quelli che sono i tuoi dati da affiliato, quindi la cosa importante che in questa zona dell'area affiliati devi settare è il tuo indirizzo email Paypal. Quindi in questo campo andrai a inserire il tuo indirizzo email Paypal. Perché è importante? È importante perché compilando questo dato noi potremo pagare le commissioni automaticamente tramite il sistema stesso, quindi ti arriverà in automatico il pagamento delle commissioni tramite il tuo account Paypal. Nella sezione account puoi andare a visualizzare quelli che sono i tuoi eventuali acquisti, quindi se avrai acquistato un bundle Million Travel oppure semplicemente se ti sarai registrato al programma di affiliazione. Ed eventualmente le membership a cui sei stato iscritto, ovviamente qui non vedi visualizzato nulla, oppure le sottoscrizioni. L'area promotion, quindi il menu che tu trovi qui, è l'area che contiene quelli che sono tutti gli strumenti che vai ad utilizzare per promuovere Million Travel. Quindi vai a visualizzare My Group, vai a visualizzare il tipo di programma di affiliazione a cui sei iscritto, in questo caso affiliazione Million Travel, e nella sezione link vai a prelevare quelli che sono tutti i link disponibili. Quindi il link diretto alla pagina di ordine lo vedi visualizzato nella finestra che si apre, puoi andarlo ovviamente all'utilizzare per la promozione, e cliccando sulla voce promotion ti si aprirà una finestra dove potrai visualizzare tutte quelle che sono le informazioni che abbiamo preparato e gli strumenti che abbiamo preparato per gli affiliati. Quindi questo, qua visualizzerai il link che dovrai utilizzare per promuovere il sito web, quindi utilizzando semplicemente questo link che include già il tuo link affiliato, che come vedi è questo, puoi andare tranquillamente a promuovere Million Travel attraverso il programma di affiliazione. Poi ci sono altri strumenti come puoi vedere, per esempio banner da prelevare, e altre informazioni che noi teremo aggiornati in quest'area. Quindi ricorda bene di andare a cliccare sull'area promotion per prelevare tutto il materiale promozionale che noi ti metteremo a completa disposizione. Nella sezione campagne puoi andare a impostare delle campagne specifiche, quindi campagne che ti possono servire per capire quali sono i risultati della tua promozione attraverso l'affiliazione. Quindi per esempio noi siamo andati a creare una campagna dal nome sito1, ma possiamo andare a creare anche altre campagne, per esempio sito web 2. In questo caso vai a creare un punto di riferimento che puoi utilizzare. E se tu poi ti recchi ancora nella sezione link, per ogni tipo di prodotto che vuoi andare a pubblicizzare, tu puoi andare anche ad assegnare una campagna specifica. In questo caso cambieranno i link di promozione, saranno già integrati con il riferimento alla campagna, e tu potrai visualizzare tutte le statistiche per ogni singola campagna che andrai a creare. Questa però è una funzione avanzata che se vuoi utilizzare, sicuramente è una campagna che può darti dei riferimenti utili, altrimenti puoi semplicemente limitarti a utilizzare il materiale promozionale che ti abbiamo mostrato in precedenza. Nella sezione commissioni verranno visualizzate tutte le commissioni che avrai maturato, e ovviamente poi saranno anche visualizzate quelle che ti saranno già state pagate, che come ripeto ti verranno pagate in automatico tramite Paypal. Se hai difficoltà puoi andare a visualizzare il menu di aiuto, quindi nella sezione help puoi andare a visualizzare quelli che sono i file di aiuto che dimostrano come utilizzare l'area, ovviamente i file sono in inglese, e vanno ad aggiungere del supporto al video che già stiamo in questo momento registrando per tutti gli affiliati. Semplicemente cliccando il pulsante logout esci dall'area affiliata e puoi rientrare ovviamente come ti abbiamo mostrato prima, quindi effettuando il login. Quindi un'area affiliato che è raggiungibile in qualsiasi momento è a tua disposizione, puoi andare a prelevare tutto il materiale promozionale di cui hai bisogno, materiale promozionale che aggiorneremo noi ogni volta che ci saranno delle novità, quindi ricorda bene, area link per ogni tipo di prodotto che vuoi promuovere hai sia l'ordine diretto al prodotto stesso, quindi il tuo link già pronto col tuo codice affiliato che contiene l'ordine diretto al carrello, sia il materiale promozionale con il link generico col tuo codice affiliato incluso che puoi andare a utilizzare per promuovere a 360 gradi l'affiliazione Million Travel.